Balzac e la piccola sarta cinese vince la 23esima edizione del premio Acerbi. Sabato c'è stata la premiazione nella sala consigliare di Castelgoffredo. La 23esima edizione del premio Acerbi ha proclamato vincitrice l'opera dal titolo Balzac e la piccola sarta cinese scritto da Dai Si ed edito da Delphi nel 2008. Affollata è stata la sala consigliare di Castelgoffredo per un evento divenuto una vera tradizione per l'intero territorio provinciale. Anche quest'anno il concorso era dedicato alla letteratura cinese con particolare risvolto alla letteratura migrante. Secondo classificato è arrivato a pochissimi voti di distacco il volume intitolato La Cina sono io di Xiaoluguo edito da Metropoli d'Asia nel 2014. Terzo classificato Le lacrime del lago Tai di Kixiaolong. È sempre per Castelgoffredo un'occasione di prestigio poter per un fine settimana diventare un po' il centro della nostra provincia per quanto riguarda la parte letteraria. Dopo la votazione e la proclamazione il giorno successivo è andata in scena una splendida serata in piazza Carducci a Sirmione dove si è tenuta la seconda edizione di Va dove ti porta il premio dove Barbara Casini ha ricevuto il premio speciale a Cervi per la diffusione della musica brasiliana in Italia.